Accessibility Days 2024, Sapienza, Università di Roma, 16 e 17 maggio. Un evento reso possibile dalla grande collaborazione di tante organizzazioni. Un ringraziamento speciale alle organizzazioni che ci sponsorizzano e alle persone che ci sostengono. Quanto incide il tema sull'accessibilità del mio sito WordPress? Stefano Minoia, Accessibility Specialist e sviluppatore front-end, DigiVision Tech. Per chi non ci seguisse in diretta sono le 18.15 e andiamo avanti fino alle 19, quindi all'inizio abbiamo detto che era una sessione per cuori forti, questa sessione qua, questo talk qua, è veramente da eroi, perché rimanere qua fino alle 19, ragazzi, è veramente tantissima stima per chi lo fa e oltre a questo il tema è veramente tecnico, quindi è ancora più da eroi. Il titolo di questo talk è Quanto incide l'accessibilità sul mio tema WordPress? Sapete che WordPress è uno dei più noti CMS, Content Management System, quindi strumenti che si utilizzano per sviluppare siti web senza dover necessariamente inserire il codice a manina, come si faceva tanti tanti anni fa. Il nostro relatore è Stefano Minoia, che è un Accessibility Specialist, ma non ha tanto bisogno di presentazione perché chi avesse il piacere di visitare il canale YouTube di Accessibility Days può vedere veramente tanti interventi che lui fa perché è una persona estremamente appassionata. Io sto zitto perché a questo livello di tecnicismo non ci arrivo e do direttamente la parola a te. Non prima, sbaglio sempre, non prima di aver ricordato il codice per l'attestato di partecipazione a questo evento, che è 6305. Grazie mille Fabrizio per la presentazione. Io mi ripresento brevemente, aggiungo solo qualcosa. Come ha già detto Fabrizio, sono un Accessibility Specialist e sono uno sviluppatore front-end e WordPress. Sono stato rappresentante del team accessibilità nella community di WordPress per due anni e mezzo. E poi, per l'appunto, mi piace anche condividere quello che imparo facendo a varie conferenze come gli Accessibility Days piuttosto che WorkCamp o altre conferenze di sviluppo user experience. Visto che stiamo iniziando effettivamente l'ultima sessione della giornata e vorrei tenere alto il livello, vi chiedo intanto di fare un applauso. E adesso vi dico anche per chi, però. Diciamo un applauso intanto. L'applauso ve lo chiedo per le persone che si stanno occupando di tutti i servizi di accessibilità, che sono le persone che quindi stanno sottotitolando le sessioni e le persone che stanno traducendo in lingua dei segni e anche per il service che sta facendo un servizio eccezionale. Detto questo, così ci conosciamo un po' meglio, vi chiedo di alzare la mano o di dire se siete... Quanti di voi utilizzano WordPress? Tutti, quasi. Beh, non male. Ottimo, sono contento. Quanti di voi lo usano per creare contenuti? E quanti di voi ci sviluppano invece con WordPress? Ok, allora, diciamo che più o meno la metà delle persone lo usano anche per sviluppare e quasi tutti invece per creare contenuti. Questo è importante perché in realtà di cosa parleremo? Oggi sarà un talk abbastanza tecnico, nel senso che io parlerò proprio di tanti requisiti di accessibilità dei temi di WordPress, ma diciamo che può essere utile a tutti perché in realtà tutti comunque dovete scegliere un tema. Dobbiamo scegliere un tema quando prepariamo un sito in WordPress e quindi sapere cosa andiamo a scegliere nel momento, cosa andiamo a trovare nel momento in cui facciamo determinate scelte può essere utile sicuramente per tutti. Faremo quindi una breve carrellata su che cos'è WordPress e cosa sono i temi di WordPress. Vedremo quali sono i diversi tipi di tema che si possono utilizzare, come i temi di WordPress sono collegati con l'accessibilità e cosa sono i temi accessibili, dove accessibili è tra molte virgolette. Partiamo quindi dicendo che cos'è WordPress e che cosa sono i temi. Beh, WordPress è la piattaforma di pubblicazione open source scelta da milioni di siti web in tutto il mondo, dai creatori e dalle piccole imprese alle aziende. Questa è la definizione ufficiale che WordPress dà di se stesso ed è interessante perché è cambiata rispetto all'anno scorso, mentre negli ultimi anni era sempre stato uguale, dall'anno scorso l'hanno cambiata. Ho aggiornato i dati che aggiorno in questa slide che c'è in tutte le mie presentazioni e attualmente è utilizzato dal 43,4% dei siti web, cioè dal 62,8% dei siti che usano un CMS conosciuto. Cioè, due siti su cinque al mondo usano WordPress e se un sito usa un CMS, due volte su tre il CMS è WordPress. Quindi è un tema che è importante, il tema dei temi di WordPress è un tema importante perché in realtà non è che possiamo far finta che non esista se parliamo di web WordPress. Per chiarire un attimo come funzionano i temi rispetto agli altri elementi di WordPress, ho pensato di fare una similitudine molto vaga parlando di quella che è la cosiddetta separazione dei compiti che forse avete sentito in inglese come separation of concerns. Cioè, sostanzialmente, l'idea per cui io vado a costruire il sito web utilizzando diversi livelli in cui ho una struttura di base che mi rappresenta il contenuto del sito che è fatto in HTML, ho l'aspetto grafico che è definito utilizzando il CSS e poi vado a creare le interazioni utilizzando JavaScript. Ecco, diciamo che, volendo fare una similitudine vaga, il core di WordPress è quello che vi dà la struttura fondamentale che vi permette di creare un sito in WordPress. Il tema è quello che vi definisce l'aspetto grafico e i plugin sono quelli che vi permettono di aggiungere le funzionalità. Questo è importante perché i temi sono quelli che determinano l'aspetto del sito web mentre i plugin, per l'appunto, vanno ad aggiungere funzionalità extra. Sia i temi che i plugin possono essere gratuiti o premium, in gergo tecnico, o a pagamento, che vuol dire a pagamento, ma la cosa importante è questa. C'è una rigida separazione tra quello che fa un tema o quello che dovrebbe fare un tema e quello che fa invece un plugin. Cioè esiste quello che si chiama il cosiddetto territorio dei plugin. Se una funzionalità impedisce all'utente di cambiare tema, quella funzionalità lì si trova all'interno del territorio dei plugin e non dovrebbe essere inserita all'interno di un tema, in realtà. Mi spiego meglio. Immaginate di andare, facciamo l'esempio molto semplice, il sito degli Accessibility Days ha diverse tipologie di, oltre che avere le pagine, ad esempio le pagine delle sessioni. Le pagine delle sessioni sono un post type personalizzato di WordPress. Cioè sono sostanzialmente, hanno una struttura particolare, specifica proprio delle sessioni. Ecco, questa cosa in realtà è una cosa che è relativa ai plugin. Perché è utile fare una separazione? Perché in realtà, siccome l'aspetto grafico del sito io posso sempre decidere di cambiarlo, dovrei fare in modo che l'aspetto grafico possa cambiare, ma che la funzionalità resti la stessa. Se io però vado a mettere delle funzionalità nel tema, nel momento in cui io decido di cambiare l'aspetto grafico del sito, vado a perdere le funzionalità. E questa è una cosa che non dovrebbe succedere. Con i temi ufficiali che si trovano nella directory di WordPress, di cui riparliamo dopo, questa cosa non succede perché si verifica che non abbiano funzionalità da plugin. Con alcuni temi premium, soprattutto quei temi che magari vengono venduti come temi specifici per fare qualche cosa. Ad esempio, tema per parrucchieri, in cui ho un sistema che mi permette di effettuare, che ha un modulo per effettuare la prenotazione. Il modulo per effettuare la prenotazione non deve stare nel tema perché cambio il tema e perdo il modulo di prenotazione. Quindi questo è importante capire. Parliamo adesso di tipi di tema. I tipi di tema, prima di parlare di tipi di tema, devo però parlarvi degli editor di WordPress. WordPress al momento attuale ha due editor principali, non entro nel tema di tutti i visual editor che ci sono, ma i due editor che fanno parte del core di WordPress sono l'editor a blocchi e l'editor classico. L'editor a blocchi è un sistema che utilizza, è un editor che utilizza un sistema modulare di blocchi, quindi sostanzialmente come se andaste a pensare proprio a delle scatole che sono presenti all'interno della pagina web, che posso andare a comporne per andare a creare i contenuti del sito, quindi i contenuti delle pagine, ma anche per andare a creare quelli che sono, che è il layout del sito, quindi la sua struttura. esiste invece l'editor classico che va a utilizzare un singolo campo di testo, in realtà è un frame, in cui posso andare a creare, a modificare, a formatare i contenuti come se avessi a che fare con un programma di videoscrittura. In entrambi i casi, in realtà, io posso anche andare a vedere qual è il codice HTML che ci sta dietro e posso andare a decidere di utilizzare, di andare a formatare il tutto utilizzando il codice HTML. Per farvi vedere, così magari a livello grafico avete un'idea di come sono e ve li ricordate magari se li avete già visti, l'editor classico è fatto in questa maniera, per cui vedete che ho un campo titolo in alto, ho anche il mouse, forse lo vedete? Sì, perfetto. Allora avete, qui in alto avete il titolo e qui avete questo grosso campo in cui vado a inserire il mio testo e poi potete andare a selezionare se sto a un paragrafo, se voglio andare a metterlo in grassetto, in gorsivo, un elemento puntato, un elenco numerato, eccetera, e nella colonna di destra ho una serie di funzionalità relative al post che sto andando a modificare. L'editor a blocchi funziona in maniera un po' diversa, nel senso che qui non si vede benissimo, ho il titolo ancora, che in realtà non è un blocco, qui in realtà questo qui che vedo come un paragrafo è un blocco e poi qui c'ho un più che mi segna come andare ad aggiungere degli altri blocchi. Magari non è chiarissimo, dopo c'è un'altra slide in cui si vede un po' meglio come sono fatti i blocchi. Stessa cosa nella colonna destra posso andare a regolarmi le impostazioni dell'articolo o le impostazioni del singolo blocco. Perché è importante fare questa distinzione tra i due editor? Perché a seconda degli editor in realtà ci sono anche quattro tipi di temi, i temi classici, i temi a blocchi, i temi ibridi e i temi universali. I due principali tipi di temi sono i primi due, i temi classici e i temi a blocchi, gli altri due sono tipi derivati. I temi classici sono quei temi che utilizzano l'editor a blocchi per gestire il contenuto delle pagine ma non per gestire il layout del sito che invece è gestito tramite template scritto in PHP. Per andare a fare delle modifiche ai temi classici quello che si va a utilizzare è la sezione personalizza o il cosiddetto customizer andare nel menu andare a gestire i menu e i widget che possono andare a modificare le impostazioni. Un tema classico da cosa hai fatto? Entro un po' nel tecnico. Da un file CSS che contiene per l'appunto il CSS e che è obbligatorio che sia presente all'interno di tutti i temi. Poi ci sono dei file di template di cui ho un file index.php che deve essere sempre presente. e mi descrive come deve essere fatto in generale una pagina all'interno del mio sito. E poi posso andare ad aggiungere una serie quasi infinita di template facoltativi per andare a definirmi come voglio che sia la struttura della front page del sito della home del singolo post della singola pagina della pagina di categoria dell'archivio degli articoli del form di ricerca degli allegati eccetera eccetera posso andare a inserire un file functions.php che è facoltativo ma che spesso è essenziale perché è quello che mi permette di gestire tutte le funzionalità aggiuntive del tema e poi una serie di altri file aggiuntivi qui vi faccio un esempio di tema classico a cui sono molto legato che è 2017 questo è il customizer di 2017 per cui nella colonna di destra ad esempio vedete un'opzione di personalizzazione del tema che è la possibilità di andare a modificare il tema l'immagine che è presente all'interno dell'intestazione del sito i temi a blocchi come sono fatti i temi a blocchi i temi a blocchi permettono di utilizzare l'editor a blocchi non solo per andare a modificare i contenuti del sito ma per andare a modificare qualsiasi altro elemento all'interno del sito hanno un editor a parte che è un editor visivo che permette di andare a creare dal back end di wordpress direttamente senza bisogno di saper scrivere codice neanche andare a creare completamente un tema di wordpress quasi completamente perché alcune cose non si possono fare dal back end ma è necessario andare a utilizzare ancora del codice però tantissime cose che si possono fare si possono fare direttamente a livello di back end anche per questi file c'è necessario un file style.css che però potenzialmente può anche non contenere niente di css ma soltanto un'intestazione che contiene le informazioni sul tema dei file di template di cui il file index.html è obbligatorio e poi ho tutti gli altri template file corrispondenti sempre in formato html ho un file theme.json che è facoltativo anche in questo caso ma che spesso è essenziale perché è il file che mi permette di andare a definire tutte le regole css del sito che vengono poi dopo elaborate da wordpress per andare a creare quello che poi è il css effettivo che viene mostrato nel front end che viene utilizzato nel front end e poi è possibile andare a aggiungere il file functions.php e altri tipi di file come ad esempio possono essere i file javascript non l'ho detto prima però sono quei file in sostanza che permettono di andare a aggiungere interattività al sito questo è 2024 che è l'ultimo tema predefinito di wordpress questo è un tema a blocchi e questo è l'editor l'editor del tema nel centro della pagina vedete che è selezionato un blocco che è un blocco intestazione se non ricordo male sia un blocco intestazione no sia un blocco intestazione o forse il blocco titolo blocco titolo direi grazie dalla regia questo è un blocco titolo in sostanza vedete che in pratica è riquadrato è il titolo che è riquadrato e ho tutta una serie di opzioni che posso andare a utilizzare poi ho l'intestazione tutti gli altri elementi nella colonna di sinistra ho un elenco con tutti i blocchi che sono presenti e quindi vedete che c'è una parte di template header una serie di gruppi in cui ho un titolo dello spazio un paragrafo dell'altro spazio dei pulsanti per l'interazione un'immagine e tutta una serie di altre cose che posso andare a definire a destra esattamente come nell'editor del post ho invece la possibilità di andare a modificare o il template le impostazioni del template o le impostazioni del singolo blocco i temi ibridi sono in sostanza un ponte tra i temi classici e i temi a blocchi vanno a utilizzare in sostanza quelli che sono i template php ma vanno magari a prendere qualche funzionalità dall'editor a blocchi come ad esempio l'editor dei template piuttosto che il file theme .json e permettono di andare a integrare funzionalità dell'editor a blocchi nei temi classici esistono poi i temi universali che sono temi che possono essere configurati completamente o utilizzando l'editor a blocchi oppure utilizzando le funzionalità di personalizza in realtà questi temi stanno un po' andando a morire perché utilizzano una vecchia versione del file theme .json per la configurazione e quindi in sostanza con la nuova versione che è molto più potente da quella che è sviluppata attualmente questi file non sono più praticamente utilizzati temi e accessibilità a questo punto arriviamo forse alla cosa che vi interessa di più della presentazione la domanda che io vi faccio è e la faccio a voi per sentire un po' che cosa ne pensate un tema di wordpress può rispettare le wcag quindi le linee guida sull'accessibilità dei contenuti web nessuno cardimentoso chi pensa che possa che possa che possa effettivamente rispettare le wcag il tema chi pensa che non possa rappresentare le wcag allora abbiamo due mezze mani su che pensa di no e nessuno sul sì quelli che hanno alzato mezza mano hanno ragione perché in realtà i temi non possono essere conformi alle wcag ma questo perché il tema di wordpress va a definire l'aspetto grafico del sito la struttura della pagina di un la struttura della pagina di un sito in wordpress mentre invece le wcag richiedono che si faccia la verifica sull'intera pagina quindi in realtà io non posso dire che un tema rispetta le wcag domanda successiva ma un tema ha influenza sull'accessibilità di un sito chi pensa di sì sulle mani ok chi pensa di no ok tutti pensano di sì la risposta è sì molto perché soprattutto per quanto riguarda i template i template quei file .php o .html vengono poi elaborati da wordpress per andare a creare l'html del sito ovviamente se l'html che viene creato è accessibile perché rispetta le linee guida del wcag ovviamente in quel caso mi aiuterà a creare un sito web accessibile soprattutto per quanto riguarda la semantica e poi ci sono tutta una serie di altre cose anche a livello di grafico per quanto riguarda i contrasti piuttosto che altre informazioni come può essere la gestione del responsive terza domanda è sono meglio i temi classici o meglio quelli a blocchi questa è una domanda che è molto divisiva e io ho un'idea abbastanza particolare in realtà per quanto riguarda questa domanda perché la risposta secondo me dipende i temi classici richiedono l'editor e sono gli unici che permettono di utilizzare l'editor classico cioè io non posso avere un tema a blocchi che utilizza l'editor classico sì in realtà ma non è l'ideale per cui qual è la questione la questione è che i temi l'editor classico soprattutto all'inizio era molto più accessibile rispetto all'editor a blocchi e quindi giustamente si diceva se hai bisogno di fare in modo che il tuo sito web sia accessibile devi continuare a utilizzare l'editor classico e quindi non puoi utilizzare i temi a blocchi è anche vero che l'editor a blocchi permette di andare a utilizzare dei blocchi in cui io so esattamente com'è il codice che mi viene creato mi spiego se io creo un blocco paragrafo o creo un blocco immagine so esattamente perché vado a inserire i singoli so esattamente qual è l'html del blocco e l'html del blocco è definito da wordpress dal core di wordpress non necessariamente dal creatore dei temi che può comunque andare a creare dei blocchi personalizzati ma se i mattoncini con cui io costruisco il sito sono sicuro che siano accessibili cioè sono sicuro che mi diano un output semanticamente corretto e corretto dal punto di vista dell'accessibilità allora non ci sono santi un tema a blocchi potenzialmente potrebbe essere più accessibile rispetto a un tema classico in cui io magari non so esattamente che codice ha scritto il creatore del tema che ogni volta che va a creare un nuovo tema deve ricominciare tra virgolette a crearsi il codice da zero questa è una un parere mio personale dipende in sostanza molto dalle situazioni adesso andiamo a parlare di quello che vi ho detto prima che è la directory dei temi di wordpress che è il sito it.wordpress.org slash themes se volete andare a vedere la versione in italiano che è sostanzialmente una raccolta di siti che sono stati testati dalla community di wordpress e che rispettano una certa serie di requisiti tra questi requisiti tutti i temi tutti i temi quindi non soltanto quei temi che classificheremo poi come accessibili devono rispettare alcuni criteri di accessibilità devono avere uno skip link devono essere navigabili da tastiera e devono avere i collegamenti in line sottolineati vado molto rapidamente a fare una carrellata su queste cose ah ecco una cosa prima di entrare sui singoli requisiti se andate nelle nella documentazione su di wordpress per ciascuno di questi requisiti troverete i beneficiari che beneficiano scusate la ripetizione dal rispetto di quel requisito una descrizione del requisito alcuni esempi di implementazione che sono sia esempi sbagliati per dirvi non fate così o anche degli esempi accettabili o degli esempi ottimali volete che il sito sia accessibile fate così e anche come effettuare i test per effettivamente verificare se sia rispettato o meno quel criterio skip link tutti i temi di wordpress hanno uno skip link quindi devono avere un link che permette di saltare direttamente al contenuto principale questo link deve essere presente su ogni pagina in cui è presente qualcosa da saltare un'intestazione ad esempio deve essere il primo elemento della pagina a ricevere il focus e deve essere visibile deve diventare visibile quando riceve il focus e poi deve spostare il focus al contenuto principale della pagina per i tecnici sviluppatori ricordo che bisogna andare a utilizzare il tab index uguale a meno uno sulle destinazioni perché c'è un simpatico bug che non è ancora stato risolto sui dispositivi mobile che altrimenti non vi sposta effettivamente il focus per quanto riguarda i temi a blocchi faccio solo una digressione sui temi a blocchi per quanto riguarda lo skip link se voi andate a inserire nel vostro nel vostro template un elemento a cui assegno l'elemento html main cioè se vado a dire posso andare per alcuni blocchi a definire qual è l'elemento html da utilizzare se io inserisco un elemento main all'interno del mio template automaticamente wordpress va a creare lo skip link ed è quello che vi dicevo prima del fatto perché è uno degli esempi per cui un tema a blocchi potenzialmente può essere più accessibile rispetto a un tema tra virgolette classico un tema classico navigazione da tastiera tutti i temi dovrebbero funzionare da tastiera qui vi dico dovrebbero semplicemente per un motivo semplicemente perché andare a effettuare questi test probabilmente richiederebbe molto tempo e non sono sicuro che effettivamente sia possibile andarlo a fare o comunque che anche le persone che si occupano della revisione dei temi di wordpress abbiano la competenza per andare effettivamente a capire quali sono tutte le cose da fare però idealmente tutti i temi di wordpress dovrebbero essere perfettamente navigabili da tastiera quindi tutti gli elementi interattivi sono raggiungibili utilizzando il tasto tab l'elemento che ha il focus deve essere sempre visibile ogni elemento utilizzabile con il mouse deve essere utilizzabile anche da tastiera il focus non fa quello che vuole ma si sposta in ordine di lettura all'interno della pagina e ovviamente premendo il tasto shift tab riesco a ripercorrere tutta la mia navigazione al contrario senza perdere funzionalità e tutto questo funziona indipendentemente dalla larghezza dello schermo e questo è molto importante ve lo ricordo perché un po' che utilizziamo tanto i dispositivi mobile tutti quanti ma anche soprattutto per le persone ipovedenti che magari utilizzano uno zoom molto grande dello schermo è facile che il reflow porti ad avere in realtà uno a vedere l'interfaccia come si vedrebbe in realtà da mobile molto più grande ma come la si vedrebbe da mobile e infine tutti i collegamenti che sono presenti all'interno di un testo devono essere sottolineati non quelli che sono presenti all'interno dei menu ma devono essere sottolineati tradizionalmente i link sono sottolineati e wordpress dice i link vanno sottolineati non vi dico che cosa c'era scritto su alcune magliette che giravano nella community di wordpress qualche anno fa sottolineate quei link fottuti sociopatici parliamo adesso di temi accessibili perché esistono alcuni temi che sono classificati come accessibili effettivamente e sono quelli che in realtà più correttamente si chiamano temi accessibility ready perché abbiamo detto prima che un tema non può essere effettivamente detto accessibile nel senso che non può gestire tutto quello che ha a che fare con l'accessibilità esistono dei temi però che sono predisposti per l'accessibilità perché sono stati sottoposti a ulteriore revisione e verificano oltre a tutto quello che abbiamo detto prima anche una serie di linee guida aggiuntive li chiamo temi accessibili tra virgolette ma in realtà è proprio il modo con cui potete andare a cercarveli all'interno della directory cioè potete andare a scegliervi di vedere soltanto i temi che hanno il tag accessibile e qui è una traduzione che non è particolarmente felice magari proponiamo di sostituirla tanto le traduzioni tanto è tutto gestito a livello di community in wordpress si può provare a sostituirlo e vediamo che cosa succede sono meglio per le persone con disabilità i temi accessibility ready la risposta è dipende nel senso che dipende che cosa ci deve fare che cosa in che modo la persona con disabilità interagisce con il tema il front end ovviamente è più accessibile perché vengono fatte una serie di controlli aggiuntivi non è detto che non tutti i requisiti che sono presenti all'interno delle vcag e che sono relativi ai temi sono necessari per quanto riguarda i temi accessibility ready e attenzione perché questa è stata una cosa che mi ha fatto un po' piangere il cuore quando l'ho scoperta non è detto che una persona con disabilità sia in grado comunque di utilizzare in autonomia un tema accessibility ready vi spiego l'esempio pratico ho conosciuto una persona che avete sicuramente sentito perché ha parlato anche agli accessibility days Elena Bresca Shin che qualche anno fa mi aveva contattato dopo che avevo fatto una presentazione su wordpress e l'accessibilità e mi aveva detto io non riesco a utilizzare il mio tema nonostante sia definito come accessibile dico spiegami esattamente qual è il problema praticamente utilizzava un tema in cui a livello di back end era possibile andare a definire una griglia in cui dire questi elementi della griglia fanno parte dell'header questi elementi della griglia fanno parte del contenuto principale questi della sidebar e questi fanno parte invece del footer il problema è che il sistema di selezione all'interno della griglia funzionava soltanto con il mouse lei utilizzava poteva utilizzare soltanto la tastiera e quindi lei dice questa cosa non funziona questo tema non è accessibile il tema è un tema accessibili accessibili ready non è completamente accessibile per cui è importante capire veramente quali sono tutti gli aspetti che entrano in gioco quando ha a che fare con i temi di wordpress e non è semplice neanche per chi all'interno della community magari riuscire a distinguere tutte queste cose perlomeno a me qualche anno fa non era chiaro ci sono una montagna di requisiti per quanto riguarda i temi accessibili ready li scorriamo molto rapidamente perché non vogliono tediarvi oltre oltre misura però in sostanza il primo controllo che viene fatto è che un link sia un link un pulsante sia un pulsante un campo di input sia un campo di input incredibile ma vero la realtà dei fatti è che spesso anche a livello grafico noi abbiamo dei pulsanti che sembrano dei link dei link che sembrano dei pulsanti e quindi che cosa faccio vado a utilizzare un div per tutto e chi se ne frega no qui è richiesto che un pulsante sia implementato utilizzando button un link sia utilizzato sia implementato utilizzando l'elemento A perché perché in questa maniera io garantisco che venga annunciata la semantica corretta agli screen reader o alle altre tecnologie assistive e che e che sia corretta l'interazione da tastiera perché anche parentesi andare semplicemente a cambiare il ruolo di un elemento non va ad aggiungere la le non va ad aggiungere il le possibilità di interagire da tastiera cioè devo andare ad aggiungere dovrei andare ad aggiungerle con il javascript a quel punto ma perché non utilizzare l'elemento html nativo che si risparmia tanto tempo e l'altra cosa è che i controlli devono avere tutti un nome accessibile requisito 4.1.2 delle WCAG niente di strato sferico moduli tutti i temi di wordpress devono avere un modulo di commento e un modulo di ricerca tutti questi moduli devono avere un devono avere un etichetta un pulsante di invio eventualmente nascosto visivamente ma anche qui perché nascondere visivamente qualcosa e poi bisogna fare in modo che i feedback sia in caso di errore che in caso di successo siano percepibili esposti anche alle tecnologie assistive i cosiddetti messaggi di stato anzi no in questo caso non sono i messaggi di stato i messaggi di stato entrano in gioco nel momento in cui vado a utilizzare delle chiamate ajax solo in quel caso ma in quel caso appunto vado a fare delle cose che non sono previste dal core di wordpress e quindi devo fare molta attenzione a quello che sto facendo intestazioni devo avere i template devono avere una gerarchia delle intestazioni logica non devo utilizzare le intestazioni per scopo di presentazione e posso decidere di andare a nascondere le intestazioni visivamente se sono ridondanti per gli utenti vedenti in pratica che cosa si va a verificare attenzione solo che sia presente un elemento ht un elemento h1 all'interno della pagina quindi ogni pagina ogni template con un sito no ogni pagina di wordpress deve avere un elemento h1 nelle pagine che contengono un singolo post o una singola pagina non devono essercene altri di elementi h1 si consiglia di non saltare livelli nelle intestazioni questo secondo me è un difetto perché non bisognerebbe saltarli e bisognerebbe evitare elementi h1 multipli questo soprattutto nelle pagine di archivio in cui magari avete l'elenco dei post e ogni singolo post ha il titolo implementato con un h1 e anche in questo caso io penso che per l'appunto bisognerebbe fare quello che è consigliato e non è sufficiente fare quello che è obbligatorio però per l'appunto qui sono criteri che sono stati decisi dalla community di wordpress cerco di andare molto rapidamente sugli altri allora semplicemente le regioni aria devono avere un ruolo corretto per cui se ho l'intestazione deve essere implementata con l'elemento html header oppure avere il role banner alternativa bisogna evitare che i collegamenti abbiano solo testo ripetuto cioè tutti i collegamenti del tipo continua a leggere devono avere almeno nascosto visivamente anche il titolo del link questa per intenderci è qualcosa in più rispetto alle vcag per cui proprio per segnalare la differenza tra le vcag e i requisiti di accessibilità dei siti contrasti sostanzialmente ci sono sono richiesti che rispettino i contrasti previsti dalle vcag più o meno le immagini si va a distinguere tra quelle che sono bisogna fare attenzione la distinzione tra immagini decorative e immagini invece funzionali mettendo un testo alternativo che sia corretto questo sia per le immagini in evidenza che sono una caratteristica dei post di wordpress ma anche per le icone non entro nel dettaglio poi troverete tutto nelle slide media bisogna fare in modo che non ci siano autoplay essenzialmente oppure che non ci siano slider che variano che si muovano in maniera continua se è presente una classe che espone del testo solo agli screen reader deve essere espresso scritto utilizzando uno dei metodi corretti in sostanza quindi è possibile andare a nascondere degli elementi visivamente o a mostrarli soltanto agli screen reader però bisogna farlo correttamente quindi o con una classe screen reader text oppure utilizzando area label e area label by ci sono alcuni elementi che non sono permessi i tab index positivi gli attributi access key di cui ho scoperto l'esistenza preparando questa presentazione e bisogna evitare che i collegamenti si aprano in nuove schede o nuove finestre senza che l'utente sia avvertito e poi ci sono un paio di raccomandazioni fare in modo che se faccio lo zoom solo del testo o cambio la dimensione predefinita nel browser non si rompa nulla e fare in modo che gli attributi title non duplichino il testo visibile questa anche questa è una cosa abbastanza ovvia la domanda è quindi ma se devo scegliere un tema conviene utilizzare o partire da un tema accessibility ready tendenzialmente sì perché vi permetterà di avere out of the box un tema che è più probabilmente accessibile rispetto a un tema che non ha questa etichetta ma non è detto e se non trovate il tema che fa per voi per quanto riguarda l'accessibilità createvene uno io quello che vi dico è che wordpress ha una curva di apprendimento che è relativamente bassa per cui anche con poca fatica no la fatica ci vuole poco studio si riesce a creare qualcosa che funziona soprattutto con l'editor a blocchi che permette in realtà di andare a utilizzare per l'appunto di non doverne anche andare a vedere come è fatto il codice vi lascio qui un po' di risorse che sono un corso su learn wordpress che è la piattaforma di apprendimento di wordpress in italiano su come scegliere installare un tema quindi questo proprio che può andar bene per tutti c'è il manuale dello sviluppatore dei temi i requisiti di accessibilità dei temi all'interno della directory sia per quanto riguarda i temi generici che per quanto riguarda i temi accessibili e c'è il manuale del team accessibilità con una serie anche di pattern che possono utilizzare gli sviluppatori per andare a creare temi accessibili io vi ringrazio non credo ci sia il tempo per le domande ma sono qui in giro anche domani e in questa slide ci sono tutti i miei contatti grazie mille ok e allora grazie ancora a Stefano tra l'altro mi dispiace perché mi sentite sì a me dispiace perché ci sono di solito in queste sessioni i relatori che si dannano l'anima per trasmettere dei concetti e il moderatore l'unica cosa che è capace di dire è tempo e quindi sembra che il moderatore sia completamente disinteressato no in realtà soprattutto per esempio questo intervento qui per me personalmente per la mia vita anche professionale è estremamente interessante ma ho questo ruolo decisamente in grado quindi ti chiedo scusa a titolo personale e allora ringraziamo ancora Stefano Minoia ringraziamo anche i pochi ma buonissimi che sono rimasti in sala fino a quest'ora ringraziamo le persone che ci hanno seguito dalla sala e diamo appuntamento a tutti a domani in presenza e in streaming a partire dalle 9.30 in track 1 per il 9 mi tocca mezz'ora prima va bene dalle 9 per il track 1 è difficile con il keynote dalle 10.30 probabilmente in track 1 2 e 3 per gli altri interventi e solo in presenza nelle aule workshop 4, 5 e 6 giusto appunto per i workshop buona serata a tutti non prima d'aver ricordato il codice per l'attestato di partecipazione che dimentico sempre che è 6305 ciao cosa desideri davvero continuare a vivere appieno le tue passioni scegli quello che per te vale di più ad aiutarti con i tuoi progetti di vita ci sono i consulenti Fineco una rete di oltre 2.900 professionisti in tutta Italia vieni a conoscerli nei Fineco Center Accessibility Days 2024 Sapienza Università di Roma 16 e 17 maggio un evento reso possibile dalla grande collaborazione di tante organizzazioni un ringraziamento speciale alle organizzazioni che ci sponsorizzano e alle persone che ci sostengono